Andiamo a Roma, capitale blindata per il derby Lazio-Roma. Momenti di tensione, adesso sembra essere stata ripristinata la calma. Chiara Cerqueti? Sì, la partita è cominciata. Noi stiamo sentendo i cori, il tifo ovviamente da qui, da dove è dalla nostra postazione. Fino a poco fa questa piazza alle mie spalle era piena. C'erano migliaia e migliaia di tifosi. Petardi, fumogeni, i soliti cori perché il derby a Roma è il match dei match. È la partita più sentita. Ma questa era e continua ad essere ancora adesso la partita su cui il Viminale ha posto la massima attenzione. Schierando insieme a Prefettura e Questura mille agenti. C'è stato, come dicevi tu, un momento di tensione, però sta bene. Ha riportato un piccolo taglio alla testa all'agente di polizia ferito da un petardo. Quando tifosi giallorossi e biancocelesti sono venuti un momento a contatto. Ma fortunatamente per il resto è andato tutto bene. Noi speriamo ovviamente che anche il dopo partita si svolga in maniera serena. Mentre ricordo che l'impegno per il Ministero dell'Interno non termina qui. Perché tra quattro giorni al San Paolo di Napoli si giocherà Italia-Inghilterra. Per il momento è tutto. A te.